Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. La prossima volta, Mastella, per cercare gli elettori bisogna andare da Federica Sciarelli al PD, cioè deve andare da chi l'ha visto a cercare se trova qualche elettore del PD ancora dotato di un minimo di speranza e senso del futuro. Mastella. Ha ragione lei e ha ragione anche Antonio Padellaro, nel senso che quando peraltro giochi la partita con 8 in campo e gli altri sono 11, ovvio questo demoralizza i tuoi sostenitori che o non vanno a votare e non fanno certamente il tifo neppure da casa, ma magari spengono il televisore se c'è la partita e non pagano il biglietto per andarla a vedere. Cioè non c'è più entusiasmo, ormai danni che questa sinistra o chi governa la sinistra ha demotivato i propri elettori e poi bisogna riconoscere un dato storico, io tento in maniera un po' permalosa per gli altri di incorrere questa idea, il fallimento dell'unificazione Margherita e Diese è fallita questa esperienza, cioè i cattolici democratici dovrebbero tornare a fare i cattolici democratici e la sinistra la sinistra. Senta ma come l'ha vista?